Il lavoro della giuria quest'anno è stato particolarmente difficile perché, a parte la qualità indiscussa delle opere, un artista si chiama Fatima, un'altra Lourdes, e allora la giuria, con rispetto e delicatezza parlando, si è trovata in un certo imbarazzo, ma chissà se le nostre scelte saranno gradite. Comunque alla fine abbiamo preso le nostre decisioni e speriamo che qualcuno dall'alto forse ci ha ispirato e che quindi non faranno troppo discutere. Giudicherete voi, voi tutte e voi tutti.